Io credo che naturalmente la religione, soprattutto la religione cristiana, abbia una grandissima occasione di poter giocare questa partita nella direzione giusta e quindi superando le difficoltà che trovavamo vent'anni fa perché il mondo nel frattempo è cambiato e dicendo di portare avanti in direzione della convergenza e non della divergenza questa grandissima forza che è la verità di ciascuno perché ciascuna religione ha la sua verità ma le verità se sono portate verso la convergenza in qualche modo possono risultare la vera soluzione per creare quella governance mondiale di un mondo così complicato ed evitare ovviamente il conflitto che è la conseguenza della divergenza.